Musica Benvenuti al consueto appuntamento con le opportunità formative e le offerte di lavoro della provincia di Savona Il centro per l'impiego di Albenga ricerca una detta alla reception per hotel di Alassio Requisiti richiesti, diploma di scuola media superiore, esperienza almeno un anno, lingue tedesco corrente Contratto proposto, tempo determinato, full time Il centro per l'impiego di Savona ricerca un manutentore termotecnico per attività in provincia di Savona Requisiti richiesti, patente di tipo B, eta minima 25, eta massima 45 anni, esperienza nel settore tra i 2 e i 5 anni Contratto proposto, tempo determinato, full time Il centro per l'impiego di Carcare ricerca due educatori professionali per struttura della Val Bornida Requisiti richiesti, diploma educatore professionale o laurea in scienze dell'educazione Auto propria, turni, diurni Contratto proposto, tempo determinato, part time Anche per il 2010 la provincia di Savona ha previsto incentivi per le aziende Che pur non avendo l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili e avendo già pienamento temperato a tale obbligo Abbiano assunto persone iscritte nelle liste dei centri per l'impiego provinciali ai sensi della legge 68 del 99 Nell'ambito degli interventi previsti dai piani straordinari la provincia di Savona ergo ha contributi a favore di imprese Che intendono assumere nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato Ammessa ai trattamenti di cassa integrazione e guadagni per cessazione di attività o mobilità in deroga Naturalmente queste sono solo alcune delle offerte che troverete visitando il nostro sito www.provincia.savona.it Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti